Quattro pattuglie in strada ogni giorno per verificare il rispetto della normativa anticoronavirus. Gli agenti della Polizia di Stato di Chiavari controllano in particolare i caselli autostradali e le zone di confine tra i vari comuni. In generale c'è una spontanea adesione alle regole, tuttavia tra venerdì e lunedì sono state denunciate 45 persone. Abbiamo soggetti che evadono dagli arresti domiciliari per coltivare i loro interessi, soggetti incauti che vanno a farsi un barbecue, gente che ne approfitta per andare a pescare, chi si sente male sul momento finge di esserlo nel frangente del controllo. Il numero di denunciati è per fortuna molto basso rispetto al totale delle persone che sono state fermate per i controlli. Occorre ricordare che il mancato rispetto delle regole è reato e può avere conseguenze pesanti. Sia una pena detentiva che una pena pecuniaria che probabilmente potrà essere poi convertita in quello che viene chiamato un decreto penale di condanna, cioè al pagamento di una somma di denaro oltre le spese legali che forse potrebbero essere anche ben più salate dell'incassato dallo Stato. Sul territorio la polizia ha ridotto la parte amministrativa, passaporti, documenti e licenze, ma i poliziotti devono comunque assicurare al paese la propria presenza e chiedono rispetto anche nei confronti del loro operato. Viviamo con una prensione maggiore quando torniamo a casa, che speriamo di tornare a casa e di non avere addosso nulla che derivi dal nostro servizio.